accade di là dei meganoidi e allora adesso siamo qui in compagnia con luca ciao 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 buonasera e benvenuto qui su radio beat music come stai? io sto benissimo e meganoidi starò bene beh sabato sera sarete a milano all'alcatraz esatto esatto sabato sera saremo a milano all'alcatraz per la prima volta all'alcatraz non a milano e niente porteremo il nostro nuovo show che è frutto dei vecchi brani di questi vent'anni di carriera più gli ultimi scritti per delirio experience e ti va brevemente di parlarci di delirio experience? guarda molto brevemente delirio experience è un disco che arriva dopo sei anni da welcome in disagio che è stato l'ultimo disco di inediti ma comunque noi nel frattempo abbiamo girato parecchio abbiamo continuato tutti gli anni a far concerti e abbiamo fatto addirittura un cd più dvd live la gestazione di delirio experience è stata molto veloce perché l'abbiamo concepito dopo sei anni ma l'abbiamo concepito tra il marzo e l'ulio 2017 io e davide il cantante l'abbiamo registrato subito a novembre è uscita adesso la cosa particolare di delirio experience rispetto forse al passato è stato proprio la stesura dei brani che è partita dalla forma canzone per poi costruire successivamente l'arrangiamento spesso invece stavamo molto molto in studio a suonare per poi scrivere i testi a questo giro abbiamo fatto il contrario e immagino che quindi anche a cadde di là è nata così quindi come tutto il resto a cadde di là è nato così abbiamo fatto io avevo un giro di accordi l'ho scritto abbastanza molto velocemente con davide abbiamo tirato giù il testo in se il pezzo dura dura tre minuti il testo l'avremmo tirato giù in sei minuti figurati è stato molto veloce ed è nato proprio così da niente era proprio un'idea che probabilmente era nell'aria e l'abbiamo scolto scritto e delirio experiences dove si può acquistare o trovare si può allora delirio experience si può innanzitutto ascoltare su tutte le piattaforme di streaming che può essere spotify deezer e così via si può comprare tutti i negozi e in tutte le piattaforme digitali e stiamo pensando proprio adesso in questi giorni qua di fare anche il vinile quindi ci sarà anche un'altra forma di delirio experience comunque tutte le informazioni sono disponibili anche sui vostri social assolutamente noi poi siamo molto attivi sui social e rispondiamo direttamente siamo noi che li gestiamo quindi riceviamo tutti i complimenti anche le critiche ascoltiamo e parliamo con tutti io invece ti ringrazio e alla prossima assolutamente e non mi rimane che dire a giovedì prossimo qui in parliamo di musica